Il mio prossimo film sarà su Padre Pio da Pietrelcina. Lo aveva annunciato al Locarno Film Festival a Belferrara nell'agosto del 2021. Detto fatto, a novembre il Chuck nel convento dei frati minori Cappuccini di San Marco Lacatola, in provincia di Foggia. Regista, sceneggiatore, attore statunitense, a Belferrara è nato a New York il 19 luglio 1951. C'era una statua di Padre Pio nella chiesa dove sono cresciuto a New York, aveva raccontato. Lì era emigrato il nonno Abele con i fratelli, quando aveva vent'anni. Gli altri non si sono adattati e sono tornati. Lui, Abele, si è costruito una vita negli Stati Uniti. Era nato a Sarno, in Campania, un paese non lontano da quello di Padre Pio, nello stesso anno del Santo Cappuccino. Nonno Abele era molto legato alla sua figura. Abbiamo incontrato il regista new yorkese sul set del film nel convento della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio e ci ha raccontato che Padre Pio per lui rappresenta la compassione, l'empatia, il continuo sacrificarsi per gli altri. Quello che ha colpito maggiormente il regista è stata la sua identificazione con il Cristo, i suoi miracoli, come l'ospedale, le sue confessioni, la sua messa, le persone che sapevano che lui era lì per loro, viveva per gli altri e lo dimostrava tutti i giorni. Il film parlerà di un preciso momento storico che vive Padre Pio a San Giovanni Rotondo, era il momento della verità, il momento reale dell'illuminazione, il momento in cui ha accettato la sua unione con Cristo. In quegli anni si scatena l'inferno sulla terra, il diavolo che semina e Padre Pio che lo combatte nella sua stanza. L'attore Shia Leboeuf è Padre Pio da Pietrelcina. Con gli attori sono molto istintivo. Ho constatato che il viaggio interiore personale del protagonista andava di pari passo con quello di Padre Pio. Avevo bisogno di qualcuno che replicasse quel tipo di emozione e Shia era la persona giusta per replicare anche la profondità, l'intelligenza, il carisma del frate Cappuccino. È un'esperienza molto importante per lui, anche perché era già stato dai frati Cappuccini di Los Angeles, dove ha ritrovato la sua fede in Gesù. Questo film è arrivato nel momento giusto per lui. I frati lo hanno accolto a braccia aperte sia in America che qui, a San Giovanni Rotondo. Siamo completamente supportati e lui è entrato nella parte. È un momento significativo e magico per Shia, la sua vita privata e anche per me. Alla domanda se dall'inizio delle riprese avesse percepito la presenza di Padre Pio, il regista risponde Ogni secondo. Padre Pio non era un frate che predicava solo con le parole, era un uomo che dimostrava attraverso le sue azioni. Sono cinque anni che lavoro a questo progetto. Fare un film sulla parola onesta di Gesù non è facile. E' stato un mio grande desiderio farlo ed oggi che siamo qui non mi sembra vero. Sono molto contento. Ok, posto? Ok, grazie. God bless you.